Ho deciso di aprire più di mille bustine di Pokémon Evoluzione Tere per trovare lui! L'ultima carta per completare tutti i set di Spade e Scudo! Ma sembra impossibile! Sarò già arrivato a meno a 200 bustine, ma ancora nulla! A quest'ora se l'avessi comprata avrei fatto molto prima! 300! Più o meno! 1, 2? Sìììììì! Poi ha fatto tempo! Più di 250 bustine! Ma finalmente eccolo qua! Ho completato finalmente tutto Spade e Scudo! Assurdo